Buonasera, sapete cosa significa essere disruptive? Questa non c'è una vera e propria traduzione italiana letteraria a questo termine e non è un caso perché una parola può essere chiave inserita in un determinato contesto e quasi non esistere un altro. Pensate al concetto di neve, ci sono 99 termini per essere identificata questa parola in eschimese, ce ne sono circa 15 in svedese, ce n'è soltanto uno in italiano, neve. Invece la disruptive è molto molto attuale negli Stati Uniti d'America, dove negli ultimi 12 mesi è stata cercata più di un milione di volte su Google, in Italia nemmeno 10 volte, e ve la provo, vi vorrò raccontare il significato di questo termine con una slide. Nel fare nuove cose ci sono due modi di fare, c'è l'innovazione che vuol dire fare le stesse cose un pochino meglio, e poi c'è la disruption, ovvero far le cose nel modo tale in cui, come le si facevano prima, risulti obsolete. E allora, per fare un esempio un pochino più concreto, c'è una citazione bellissima di Henry Ford, in cui, che lui si chiedeva, in cui, se avessi chiesto ai miei clienti cosa volevano, mi avrebbero risposto un cavallo più veloce. Il cavallo più veloce era sicuramente innovativo, l'automobile, quindi la carrozza senza i cavalli davanti, era disruptive. E allora quello che Henry Ford all'inizio della sua impresa considerava l'automobile era pura magia. Ve lo faccio con un esempio ancora più concreto, magari più contemporaneo, è quello del telefono. Se avete in mente il Nokia 3310, che tutti abbiamo avuto, era sicuramente più innovativo rispetto al 3210, era più leggero, era più nuovo, ma non era, non era, ma disruptive è stato l'iPhone, il primo iPhone lanciato nel 2008 da Steve Jobs. E allora, provo a raccontare perché questa disruptive è stata così importante nei miei ultimi dieci anni. partendo allo status quo, avevo 21 anni, era a New York, nel bellissimo ufficio all'Empire State Building, al 41esimo piano, e facevo, e facevo in sostituto di commercialisti. Quindi iniziavo a lavorare, avevo uno stipendio molto alto, avevo in Italia un'attività familiare già avviata, e quindi stavo in una situazione abbastanza ideale, solo che qualcosa non funzionava, quello era il mio desk, non mi divertivo così tanto a registrare fatture e a vedere i bilanci degli altri, e allora quello che mi aspettavo, le aspettative che avevo all'università di andare a lavorare, come commercialista, cominciavano ad annoiarmi. E allora in quegli stessi anni, così passavo le mie giornate professionali, in quegli stessi anni, se invece volevo andare in vacanza a fare un weekend lungo a Chicago, quella era una stanza d'hotel, 12 metri quadri, asettica, impersonale, se invece volevo andare a cena fuori, dovevo scendere per strada, alzare la mano, aspettare un taxi, e poi una volta salito, controllare il tassametro e controllare il tassista, e se invece si voleva vedere un film una sera a casa, bisognava comunque uscire di casa, andare a blockbuster, andare a scegliere un film basato su un titolo e su una copertina, per poi tornare a casa e rischiare che neanche il film che avessi scelto neanche ti piacesse. E allora qualcosa doveva cambiare in quell'anno, io dovevo pensare a cambiare la mia vita professionale, avevo la sensazione di mettere il cervello, quando arrivavo in ufficio, e metterlo nel cassetto per poi riprenderlo alle sette di pomeriggio, e allora quel cervello andava usato, e allora è così che si passa al momentum, e quel momentum, il mio momentum è stato nel 2013, tre anni più tardi, dove da una stanza, dove in quel palazzo, nel West Village, ho avuto un incontro casuale e fortunato, ho cominciato con una stanza ad affittarla all'inizio di Airbnb, e quindi tutto quello che era l'incubo di ogni persona che arrivava a New York a cercare un alloggio, io affittavo queste stanze, le affittavo creando un arbitraggio tra gli affitti che pagavo a lungo termine a quel signore e gli affitti che incassavo a breve termine dagli italiani. e allora, negli stessi anni, così come io pensavo a cambiare la mia vita professionale e a migliorare il mio conto in banca, ci stavano qualcun altro, qualche altro coetaneo che pensava invece a cambiare, a rivoluzionare, a reinventare i propri settori, e quindi Airbnb e Uber, cioè non c'è bisogno che spiego questa slide, in quanto tutti noi traiamo benefici da queste società, e allora questo momentum è quel momento, è quell'episodio, quella scelta che sembra apparentemente banale, ma che poi scatena un effetto domino. E allora vediamo come si passa da questo status quo che tutti abbiamo al momentum. Ci sono tre filosofie e tre consigli che vorrei darvi. La prima, la filosofia della fine, quindi iniziare dalla fine, ovvero avere in mente, avere in testa qual è l'obiettivo finale. Cosa si vuole raggiungere? E soltanto avendo chiaro qual è l'obiettivo, allora sarà tutto più facile, si daranno le giuste priorità. Ed è quello che io ho fatto, proiettandomi in più in là, e avevo capito, immaginando che non volevo fare il commercialista, ed è quello che consiglio, nel senso che l'errore opposto potrebbe essere che siamo tutti intrappolati in attività sbagliate, ovvero saliamo una scala appoggiata sul muro sbagliato. E quindi ogni passo, ogni scalino che si farà verso l'altro faticosamente non farà altro che portarvi più velocemente in una meta, in un successo che non è il nostro. E allora il consiglio, il giusto arco temporale è di tre anni, perché se guardi troppo in là, a vent'anni, c'è il rischio di sbagliare, se guardi a due mesi non serve a nulla, e così quando si guida l'auto non bisogna guardare a 50 cm al cruscotto, perché si rischia di fare l'incidente, e non bisogna nemmeno guardare a 5 km. C'è una seconda filosofia, che è la filosofia del limite, che ve la racconto meglio con una storiella yiddish. Ci sta un imprenditore di calzature, che in sede di bilancio fa una riunione e vede che ci sono rimanenze di scarpe, un imprenditore di calzature. E allora prende il primo figlio, Daniel, gli dice Daniel prendi tutte le scarpe e valla a vendere in quell'isola, Daniel prendi tutte, arriva nell'isola, si guarda intorno tutti i scalzi, chiama il padre e dice dove mi hai mandato, qui sono tutti i scalzi e rientra. Allora il papà prende il secondo figlio e dice David vai tu, prendi le scarpe e valla a vendere nell'isola, David prende tutte le scarpe, arriva nell'isola, si guarda intorno tutti i scalzi. Chiama il padre e dice qua 10.000 scarpe non bastano, manda rinforzi che qui sono tutti i scalzi. Questo è quello che dobbiamo fare, dove c'è un limite c'è dietro l'opportunità. E così come in quella slide si vedeva che davanti all'ostacolo, davanti al muro bisogna soltanto fare un cambio di prospettiva, bisogna quindi avere la combinazione di essere fortunati abbastanza, di essere esposti al limite e avere quell'atteggiamento mentale, quella bravura di vedere quello stesso limite come opportunità. E poi c'è una terza filosofia, che è quella della scelta, che la racconto invece con una parabola di un animale, dell'animale Laragosta, che probabilmente nessuno si è mai chiesto come fa un Laragosta a crescere. E Laragosta, che è un animale soffice, molle, rinchiuso da un guscio rigido, fa sì che proprio quel guscio che la limita, che la soffoca, Laragosta per scendere si mette sotto una roccia per difendersi, rompe quel guscio per produrne uno nuovo. E questo continuo passaggio di rottura per poter crescere, fa sì che Laragosta crescia. E quindi c'è un disagio, nasce tutto da un disagio, da un senso di oppressione, che fa sì che, dalla spinta, per poter liberarsi di questa corazza. E questo è quello che dobbiamo fare. Ognuno di noi ha una corazza intorno, un abito troppo corto, o uno schema che gli è stato un percorso scelto agli altri, bisogna avere la forza di uscire dal proprio comfort zone, di poter liberarsi di quegli schemi e di poter scegliere il proprio percorso. Soltanto così si avrà una vita pagante, si andrà incontro a un percorso che si è scelto e quindi si avrà la forza di poter superare quegli ostacoli. Abbiamo visto cos'è disruptive, c'è uno status quo e si passa al momentum. E questo è fondamentale, ma c'è una cosa che è ancora più importante. Questo continuo passaggio è una vita realmente disruptive, è una vita che fa sì che questo passaggio è continuo. Ogni status quo va trasformato in momentum, attraverso bravura, attraverso queste filosofie, e quel momentum però inevitabilmente tornerà a essere status quo. E quindi questo continuo passaggio fa sì che si fa una vita disrupting. Lo fanno i grandi imprenditori, lo fanno grandi aziende, lo fa Uber, per esempio, che si è quotata settimana scorsa a Wall Street con una capitalizzazione di 70 miliardi, ma che dalla forza che aveva, ovvero di render conducenti, ognuno di noi che arrotondava lo stipendio guidando le proprie macchine, oggi investe miliardi nella tecnologia del self-driving. Lo faccio io, ho provato a farlo io, che sono tornato dall'America a vivere in Italia, provando con l'ambizione, con la missione di costruire il futuro dell'hospitality, con il gruppo Sonder, questo è un appartamento di Roma, e quindi questa vi lascio con un proverbio cinese, in cui quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento. Qui abbiamo capito come si passa da status quo a momentum, l'importanza è continuare a fare, e dovete farlo, e vedere che quel vento, che dovete utilizzare quel vento come l'elemento mancante per poter far girare le vostre palle, far funzionare i vostri mulini, e non vederlo come un elemento distruttivo. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. 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 Grazie.